Arriviamo a Mallorca un giovedì sera e non vediamo l'ora di rilassarci un po' nello splendido resort che abbiamo prenotato. Entrando nella stanza però ci accorgiamo con sorpresa che non è stata pulita come si deve. Nonostante le recensioni impeccabili troviamo sabbia ovunque sul pavimento come se qualcuno fosse appena tornato dal mare e un caldo soffocante come se le finestre non venissero aperte da giorni. Non sono mai stata una principessa sul pisello, almeno non di quelle esagerate, ma su alcune cose non transigo specialmente quando sono in ferie e voglio staccare completamente senza pensieri. Siamo troppo stanchi per metterci a discutere alla reception, così decidiamo di cambiare l'aria e di rinviare al mattino seguente qualunque altra questione. Prima di raccontarti il resto della storia sono entusiasta di annunciarti che il mio primo libro Insicure di Successo è già prenotabile online. Oh yes, dal link che trovi qui sotto e sarà disponibile in libreria a partire dal 24 settembre 2019 per andare oltre il giudizio e le aspettative degli altri, perlomeno per provarci, per valorizzare i nostri dubbi, le nostre debolezze e perché no anche i nostri fallimenti trasformandoli in opportunità, per scoprire una forza che pensiamo a volte di non avere affatto. Con Insicure di Successo ribaltiamo la prospettiva e scopriamo che in realtà abbiamo già tutto quello che ci serve. È il momento che a definire chi siamo non sia il risultato finale, ma il nostro coraggio di riprovarci ogni giorno, un passo alla volta. Link per prenotare la tua copia qui sotto al video. Ma torniamo a noi. Il giorno seguente, mentre scendiamo a fare colazione, incrociamo casualmente la ragazza detta le pulizie, che con il suo carrello avanza sorridente lungo il corridoio. Sul petto ha una targhetta che dice Elena. Decido che non ha senso metterla nei guai, avvisando la direzione senza perlomeno darle il beneficio del dubbio. Così le chiedo se può fare attenzione alle pulizie della stanza, che non è stata sistemata a dovere, le faccio vedere le foto e le faccio vedere i resti degli ospiti precedenti. Lei guarda il pavimento desolata e ripete Lo sento, lo sento, spagnolo per mi dispiace. Allora le sorrido dicendo che non si deve preoccupare e usciamo. Al nostro rientro la stanza è uno specchio e sul letto troviamo un cuore enorme fatto con degli asciugamani puliti e un biglietto di scuse da parte di Elena. Inutile dire che la reception non ha mai ricevuto alcuna segnalazione da parte nostra e che Elena si è dimostrata l'esempio vivente del fatto che se fai il tuo lavoro con passione e cura, errori e sviste diventano solo occasioni di crescita. Quando sei disposto a fare più del minimo che ci si aspetta da te, il tuo atteggiamento non passa inosservato e potrebbe diventare un vero trampolino di lancio nel lavoro e nella vita. Non sto dicendo che dobbiamo accontentarci di un lavoro che magari non ci soddisfa e nemmeno che non possiamo fare errori. Fare errori è umano e a volte è anche molto utile. No, sto dicendo che se ci impegniamo a fare del nostro meglio abbiamo molte più probabilità di arrivare alla meta che abbiamo in mente, qualunque essa sia. Perché facendo bene le cose che riteniamo magari meno fiche, meno cool, sviluppiamo la capacità di fare bene anche quelle che invece contano davvero per noi. E se anche dovesse passare inosservato agli occhi dei nostri superiori, e il nostro sforzo, pensiamo all'effetto che può avere su di noi. Impegnandoci a svolgere sempre il nostro lavoro con la massima cura, ci sentiremo molto più soddisfatti a fine giornata e avremo molta più carica ed energia che possiamo dedicare a qualcos'altro nei ritagli del nostro tempo. Perché come fai una cosa è come fai ogni cosa. Te lo ripeto, anzi lo ripeto soprattutto a me stessa, facendo bene quello che ci viene richiesto, preserviamo tutte le energie che ci servono per individuare magari una nuova strada che potrebbe aiutarci a crescere e per percorrerla una volta che l'abbiamo individuata. Se sei d'accordo ti aspetto come sempre nei commenti qui sotto e non dimenticare di prenotare la tua copia di Insicure di Successo e se sei un ometto di regalarla a tutte le donne della tua vita. Grazie a tutti! Grazie! Grazie!